Domani partiamo. Andiamo in Africa, io e te. Ciao, sono io. Nathan è malato. Che cos'ha? La febbre. Ma abbiamo il volo. Beh, sposta il viaggio. Sai bene che non è possibile. Benvenuto in Senegal, Mr. Tull. Grazie, grazie. Un attimo per un senso. Mr. Tull, un autografo, per favore. Mi chiamo Yao. Da dove vieni? Canel, Mr. Tull. Sono partito tutto solo. E dov'è il tuo villaggio? A 387 chilometri. Tutto solo? E come torni a casa? Non lo so, Mr. Tull. Com'è che si chiama il tuo villaggio? Canel, Mr. Tull. Arriviamo stasera e torniamo domani. Certo, amico. Mi chiamano Nicky Lauda. Vimmi, capo. Da dove viene la tua famiglia? Non ne ho idea. Non ti preoccupare, lo scopriamo. Io devo prendere un aereo domani sera. Dov'è finito? Prima dobbiamo mangiare. Ma no, ti ho detto che devo essere a Dakar domani sera. Ho un aereo. Rilassati. È lui che ci ha piantato in asso, l'hai visto? Hai figli? Sì, uno piccolo. E perché non è venuto con te? È rimasto a casa con sua madre. Se fossi qui potrei giocare con lui. Non è possibile. Ti muovi bene. Non sei di qua, vero? Come non sei? L'ho capito subito. Ti piace quella ragazza? Documenti. Dalli qualche soldo. E perché dovrei? Perché sei bianco. Io sarei bianco. Non ho mai visto il mare. Perché hai affrontato questo viaggio da solo? Che rappresento io per te? Se da grande non riuscirò a fare l'attore come te, voglio scrivere un libro. Che libro scriveresti? Harry Potter. È stato già scritto? Curiosità del giorno. Nel film Elizabeth, The Golden Age, a un certo punto Elizabeth arriva alla cattedrale di St. Paul e si vede nei lavori di costruzione. In realtà la cattedrale aveva davvero bisogno di restaure, quindi il regista decise di dare vestiti e strumenti d'epoca ai muratori che stavano lavorando e li usò per questa scena. Quindi i muratori erano veri muratori, veri operai. Ragazzi ci trovate anche su TikTok, trovate il link qui sotto nell'info box e io vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria.